se non bestemmio guarda ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale art bentornati in un nuovo moto vlog è una vita che mi faceva riuscito in moto ragazzi tutti i video che sono stati pubblicati finora risale per lo meno a settembre quindi il sole mi sta ceccando i murcacci quindi non sono proprio gli ultimi fatti perché questo? perché ho avuto un problema lo statuore e l'ho dovuto cambiare tutto qua cioè tutto qua è stato un bel problema perché lo statuore come sapete non costa poco però dai ce l'abbiamo fatto anche questa volta Camilla ci vuole far spendere tanto come potete vedere ragazzi oggi non è proprio la migliore condizione per andare a fare un giro in moto in quanto stanotte ha piovuto non previsto tra l'altro e niente dobbiamo stare molto attenti dobbiamo stare molto molto attenti si sta parlando la visione interna è quella oscurata per il sole oppure semplicemente sporca quindi non la userei oggi il programma non lo so qual è in teoria dobbiamo andare sempre verso gravina o altamuro o anche matera però non so darvi la certezza assoluta ma d'ora ragazzi ho tutto il calcolato di giorno io non sono riuscito ad orientare presto beh scusate eh però qua la sportiveggianza è troppo poca e niente li sto trovando tutti io bevi bevi cara così per un buono non scassare la minchia dai qua si è arrivato qua si è arrivato qua si è arrivato signorina mi vuole conoscere? non so vedo che aveva un certo interesse nel guardare oh che bella vista vista è tutta bagnata signori però oltre a sbadigliare devi anche guardare chi arriva nella rotonda già grazie gentilissimo è bello calore chi sta mamma mia qua come è bagnato c'ho paura tanta paura ok ragazzi siamo arrivati a Trani ci appostiamo qui e aspettiamo Saverio si è vato male? si è vato male? si è venita la moto a me eh? quando mi è cecolata la moto eh? e ho battuto quanto la moto non mi sono andato a presto eh ho visto allora ragazzi siamo sulla via tra Corato e Gravina andremo ad Altamura anche oggi però faremo una strada diversa purtroppo Saverio è caduto da fermo al benzinaio perché gli si è tolto il cavalletto non si sa come non si sa perché e quindi ha rotto il cupolino vi faccio vedere un po' il danno si è spezzato il cupolino si è spezzato quindi l'abbiamo cambiato abbiamo messo con l'originale si è spezzata questa parte qua quindi eh lanciamo ufficialmente l'hashtag Help Saverio KTM KTM per ricomprare il telaietto noi siamo sulla via di tra Corato e Gravina vi dicevo però l'asfalto non ci piace manco per niente è tutto bagnaticcio pieno di briciolino qui gli andremo molto molto tranquilli appassunto che altro? che? che succede? vi diamo vi lanci ciao è bello che carino facciamola andare avanti vai avanti ma se stai a fare il chipset vai avanti guarda che bello miliccio che c'è per terra oggi è tutto in giro tranquillo ragazzi la strada è bagnata quindi non già non pioggiamo mai ma per oggi è ancora peggio guarda Saverio guarda Saverio guarda a me pure eh non mi infido non mi infido manco te io già mi infido su asciutto per tutti su bagnaticcio non so quante te non ritengo ragazzi queste non sono perché adatta al bagnato potremmo superare sto caos che non mi fa vedere niente ciao gara ciao Jingle bells, jingle bells, jingle all the way No, caro, no, mamma mia, c'è quanto tanto altro Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Ok ragazzi, focaccia presa, era buona, sapevi la focaccia? Era buona, era buona, era buona, era buona, confermiamo, promosso il panificio di Gesù, adesso tra un poco ci riavviamo verso casa, ci stiamo un po' riposando, non sto salutando, mi stava dando la saliva di traverso, si, si.